Accendi la mente, spegni i pregiudizi. Questo è lo slogan che guida la settimana d'azione contro il razzismo in Piemonte, che si inquadra nell'ambito delle iniziative nazionali promosse dal LUNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In Piemonte, dal 15 al 22 marzo, sono previsti numerosi eventi. Grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino e Coldiretti, quest'anno il messaggio antirazzista viene portato nei mercati di Campagna Amica, con un ricco programma di attività. Indossando la coccarda arancione, i coltivatori e le coltivatrici intendono testimoniare il rifiuto di ogni forma di razzismo e xenofobia. Il 21 marzo, giornata internazionale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali, si svolgerà a Torino, in Piazza Palazzo di Città, dalle 14 alle 19, Torino si sveglia antirazzista, che combina arte, educazione non formale e aspetto ludico, per parlare a tutti di antirazzismo e antidiscriminazione. Un pomeriggio di iniziative promosse da associazioni identi e coordinate dall'Associazione 3.0. La settimana si concluderà domenica 22 marzo a Torino, in Piazza Bodoni, presso il mercato di Campagna Amica. Noi abbiamo deciso di aderire all'undicesima settimana contro tutte le discriminazioni e di portare questa riflessione sui mercati, perché ormai da oltre un anno abbiamo fatto un progetto di rinnovamento dei mercati di Campagna Amica, pensando che potessero essere luoghi dove non solo costruire un rapporto città e campagna o vendere ovviamente prodotti locali, ma anche luoghi deputati dove fare relazione e anche cultura.